Musica Venerdì 5 maggio, Sant'Angelo da Gerusalemme e il 125esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 240 al termine il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.23 la luna leva alle 14.53 e tramonta alle 3.31 Esce a Belluno il primo numero del periodico L'Ecco delle Alpi pubblicato dalla tipografia De Liberali e diretto da Adalunfo Falconetti a breve vita 33 numeri in tutto ma con il merito d'aver illustrato e fatto conoscere le bellezze artistiche e naturali del territorio bellunese ed avervi diffuso la letteratura di genere romantico Le previsioni per domani fino al pomeriggio cielo poco parzialmente nuvoloso verso sera nuvolosità in aumento con piogge locali in pianura e sparse in montagna temperature senza variazioni di rilievo fino all'alba e più alte in seguito rispetto a venerdì grazie a tutti grazie a tutti